Il Governo vuole mettere insieme tutti i soggetti coinvolti per i nuovi provvedimenti del reddito di cittadinanza, fra i quali i CAF e i padronati, che hanno già convenzioni con l'AMPAL, l'azienda nazionale per le politiche attive del lavoro e delle imprese. Vediamo come si stanno preparando i CAF, parliamo con il responsabile provinciale del CAF FENAPI, Pietro Cascio. Ci sono molti utenti che stanno prendendo da santi i nostri uffici in tutta la città e pure nella provincia. Noi stiamo consegnando di fare l'ISE intanto perché il 6 marzo ci sarà questa scadenza della presentazione di questa domanda. Per certi aspetti avete chiesto anche un contributo allo Stato affinché vi possano affiancare. Sì, diciamo che non siamo noi direttamente ma è la consulta dei CAF che rappresenta i CAF a livello nazionale che sta trattando su questa operazione. La consulta è chi si relaziona con gli istituti del Previdenziale e con il Ministero. Nascerà anche un controllo per quanto riguarda i requisiti e anche per evitare che dei furbetti se ne possano approfittare? Diciamo che noi consigliamo ai nostri utenti di dichiarare onestamente tutto quanto e questo è importante perché ci saranno dei controlli a tappeto. Ormai con l'incrocio dei dati nazionali e le verifiche sulle banche e tutto quanto, mi sembra che non è più il caso dei furbetti, ormai possono fare grandi cose. Vogliamo ricordare quali sono i requisiti? Un'ISE di 9.360 euro, un reddito immobiliare diverso alla casa di abitazione di 30.000 euro e un reddito immobiliare non superiore ai 6.000 euro. Questi sono le linee di massima, un po' dei requisiti, la cosa più articolata diciamo, non andiamo qua a spiegare precisamente. Con i nostri uffici avranno tutte le spiegazioni del caso, gli utenti che vengono da noi. Diciamo che i caffi e i padronati stanno svolgendo un servizio abbastanza sociale con la popolazione perché sono molto vicini, molto vicini pure logisticamente in tutti i quartieri, in tutti i rioni, dove effettivamente le amministrazioni, gli istituti providenziali, diciamo dove lo Stato pure non è presente. Diciamo che la nostra rete è abbastanza socialmente pure vicina alle persone. Aplostare Grazie a tutti